Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dio, il Pape, che ha laice che ha scritto a riguardo di santità, visto che l'è tacato un anno, che l'è dice un paz, anche ora, perché non vi è la santità. Per i essi sanzi non è necessario i essi vescui predis o suori, certi volte si pensano che possono essere sanzi, che possono scrivere le occupazioni ordinarie, per il tempo di prea. Non è così. D'occhio si inclamasse a vivere con l'amore, le occupazioni di ogni giorno sono così. Se sei sposato, sei sanzi, volendo bene e vedendo il tuo nome è detto femmina. Se sei genitore o nono, sei sanzi con l'insegnare con pazienza a conoscere e a dare il Signore. Se sei un operario, sei sanzi facendo il tuo lavoro con onestà e competenze a servizio dei fradis. Se tu hai il Podegman, sei sanzi quanto ci riesci a fare il bene di tutti e non il tuo interesse personale. bene. Buona giornata. Buona giornata e buona vita. Buona giornata. Buona giornata. Ciao. Buona giornata.